Ciao da Silvia del progetto Migliori Libri, il canale dove i lettori tornano in cerca del prossimo libro ideale. In questo video vedremo insieme il libro di Andrea Panciroli, personaggio che qualunque millennial degno di chiamarsi tale avrà avuto sicuramente modo di conoscere come il pancio nel periodo in cui Facebook ancora esisteva. Ma per consentire di vedere questo video anche agli anziani all'ascolto mi tocca precisare che Andrea Panciroli è uno dei più noti creator italiani, nonché attore e sceneggiatore e che nel 2013 ha raggiunto la notorietà proprio interpretando il personaggio comico il pancio. Personaggio che sui social italiani ha macinato numeri assurdi proponendo una comicità becera, politicamente scorretta e incentrata su tutti quegli argomenti che nella società odierna rendono un giovane degno del rispetto dei propri amici, ovvero la droga, il successo e il sesso. Se ami leggere ed è la prima volta che vedi la mia brutta faccia visita progettomigliorilibri.it e scoprirai come sfruttare al meglio questa risorsa in quanto lettore o lettrice e come contribuire a tua volta a migliorarla aggiungendo la tua esperienza a quella dei membri della community su Telegram oppure tramite una donazione. Donazione che probabilmente non vedrai l'ora di fare quando dopo aver letto il libro di Panciroli capirai quanto possa essere claustrofobica l'esperienza da questa parte dello schermo. Tempo di iniziare questa recensione di 2k10, l'anno zero dei social, libro che è riuscito a stupirmi sia in positivo che in negativo, quindi preparatevi perché tutte le riflessioni che ha generato in me le sto per rigirare su di voi seguendo i soliti punti di questo format recensione, la cui prima domanda, come sempre, è qual è l'obiettivo del libro? Questo libro sulla carta ha più obiettivi, ma quello che più di tutti viene evidenziato al momento della vendita, ancora più del raccontare la storia di Panciroli, è quello di ripercorrere la storia dei social dal 2010 in avanti. Il libro infatti trova una sua espansione sul sito thetimelineonline.com, la cui mission è tenere traccia di tutti gli eventi in qualche modo degni di nota accaduti sul web o a questo relativi. Se è vero che questo è tra gli obiettivi più espliciti, è vero anche che ce n'è uno più implicito, che a mio parere questo libro c'entra ben più dell'altro, ed è quello di far capire al lettore una volta per tutte quanto l'obiettivo di qualunque iniziativa di un influencer o imprenditore del web, compreso questo libro, sia generare direttamente o indirettamente profitto. Tant'è che questa è la dedica più sincera che io abbia mai letto. Zero ipocrisia. Certo, la bravura del professionista sarà proprio nel riuscire a coniugare convenienza personale e valore offerto in cambio, ma chiunque non partisse da questo presupposto e giocasse semplicemente a fare madre Teresa senza invece agire in funzione del mercato circostante non potrà che fallire, finire nel dimenticatoio e cercarsi un lavoro vero. E a far passare questo concetto Panciroli riuscirà mettendosi completamente a nudo, anche se questa volta non a 90 come in un suo famoso video, e raccontandovi un episodio di vita dopo l'altro come è riuscito ad ottenere e a mantenere il successo in questo contesto lavorativo, che per quanto possa risultare frivolo per chi lo vede solo dall'esterno, fatto a quei livelli, è uno dei più difficili e mentalmente opprimenti della nostra epoca. Tra i lettori target di questo libro, o meglio quelli a cui ne consiglierei l'acquisto io, troviamo di conseguenza il creator o il wannabe creator. In particolare quello più giovane, che potrebbe capire grazie a questa secchiata d'acqua gelata, che piuttosto che creare contenuti che appassionano lui, se vuole che la cosa sia sostenibile, dovrà realizzare qualcosa in grado di portare soldi quanto più velocemente, farsi amici i contatti giusti e puntare, almeno all'inizio, tendenzialmente più sul marketing che sulla qualità. Il mio suggerimento di acquisto va inoltre a tutti i fan di Andrea, e sottolineo di Andrea, non del pancio personaggio degli sketch comici, perché sappiate già da ora che nonostante i toni coloriti e una scrittura senza peli sulla lingua, non troverete un libro comico, bensì la nuda e cruda avventura social di Andrea Panciroli e compagnia cantante dal 2K10 ad oggi. Venendo alla struttura, questo libro si divide in sette capitoloni che illustrano il percorso di Panciroli sui social media, spaccato in veri e propri gironi di un suo personale inferno dantesco. Social media che, come l'autore precisa, in Italia pongono il proprio anno zero nel 2010, anno in cui le vite di tutti noi avrebbero avviato un cambiamento dal quale non sarebbe stato più possibile tornare indietro. Prima dell'anno zero, infatti, e chi lo ha vissuto come me lo sa, esisteva la vita reale e internet. Da lì in poi, invece, per quanto oggi qualche illuso ancora fatichi ad accettarlo, le due cose sarebbero inevitabilmente diventate la stessa cosa. Come sempre nelle mie recensioni metto quello che interesserebbe sapere a me prima di un acquisto, e dato che una di queste cose di solito è un vero e proprio esempio di cosa troverò leggendo il libro, è tempo di passare agli assaggini, che altro non sono che degli estratti riassunti e commentati da me medesima. Come vi ho detto, dalla prima all'ultima pagina Pancirolli racconterà in prima persona la propria esperienza, seppur riportandola sempre contornata dagli eventi social che accadevano intorno a lui nei diversi momenti e che lui surfava come fossero onde da prendere al volo. Ma vediamo direttamente un esempio di questo racconto in prima persona col primo assaggino. Klapis lo avevo superato, ma erano arrivati mettebise. A differenza mia, loro mettevano sempre, alla fine dei video, la scritta tagga un'amica oppure condividi se sei, e facevano il triplo delle mie condivisioni. Io la trovavo una roba da rincoglioniti, ma dura Lex said Lex. La prima volta che ci ho provato ho fatto cinque volte i commenti che facevo di solito. E qui aggiunge, mi vergogno come un cane a dirlo, ma da allora ho iniziato a metterle sempre anche io quelle scritte, perché a quanto pare esiste una parte di italiani, e ve lo dico per esperienza diretta, che se lo legge lo fa davvero. Hai capito bene? E se anche tu in questo trovi tanta tristezza, condividi questo video e donna il paypal che trovi in descrizione. Tornando a noi, il libro è pieno di dritte simili e non negherei ciò che è già stato detto da tanti, ovvero che dal suo contenuto si potrebbero trarre tanti spunti concreti dal lato marketing. Ma ciò che voglio precisare, dato che io a forza di sentirlo dire da tutti alla fine da questa lettura mi sarei aspettato una cosa ben diversa, è che questi spunti li potrete e dovrete estrarre voi dalla biografia di Panciroli. Non troverete mai infatti istruzioni didascaliche per avere successo sui social, anche perché quelle non esistono. E Panciroli è il primo a saperlo e ad evidenziarlo, offrendo una spiegazione delle dinamiche dei social pragmatica e a prova di Bomer. Sentite qua. Fui contattato da Montemagno che mi propose di avviare insieme a Clapis dei corsi per aziende su gruppi privati Facebook. Avevo già nasato l'economico, ma a me quella cosa dello spiegare agli altri come avere successo sui social né mi piaceva né mi conveniva. Montemagno approcciava i social in maniera seria, era preparatissimo e bravo. Il problema era, e lo è tuttora, che in questo nuovo mondo liquido dei social quelle dinamiche e tempo che le hai spiegate sono già vecchie, perché l'algoritmo è in continua evoluzione. Parole che nessuno potrà smentire e che lasciano intendere quanto gli aggettivi stabile, sicuro e facile siano dannatamente distanti da un percorso professionale di questo tipo. Ciò che quindi il creator interessato ad avere successo potrà davvero carpire da questo libro, più che l'approccio tecnico e operativo, sarà quello strategico e imprenditoriale. Quelle basi che valgono ovunque a prescindere dal social o dalla moda del momento. Una di queste basi, ad esempio, è agire in funzione dei bias cognitivi qui riportati. Elementi tanto importanti bias da essersi meritati, oltre al nostro video sull'opera di Daniel Kahneman, che dovresti andarti a recuperare, anche delle pagine dedicate all'interno del capitolo 6 sulla neurocomicità. Ho scoperto che nel mentalismo esiste una disciplina che si chiama neuromagia, che consiste nel prevedere e forzare le decisioni che prenderà il pubblico, e che, pensandoci, è un po' quello che io facevo su Instagram. La differenza tra me e gli illusionisti era che quando vai a uno spettacolo parti prevenuto nei confronti del mago, e ti concentri sullo sgamare il trucco, mentre sui social no, anzi. Un conto è dire scegli una carta, un altro dire vota il sondaggio. Sono entrambe forzature, ma una sembra democratica, un po' come le elezioni. Insomma, ero percepito da voi come un comico, o addirittura un amico, mentre in realtà ero un cinico stregone che voleva vendervi intrattenimento brandizzato. Dove come Panciroli abbia applicato i suoi trucchi di neuromagia lo lascio scoprire a voi togliendovi il giochino sul più bello, e chiudendo come al solito rispondendo alla domanda che tutti in questo momento vi starete facendo, ovvero Silvia, è tutto qui? Ma certo che no, perché leggendo 2K10 di Andrea Panciroli scoprirete anche. Il salto del capretto, cos'è e come effettuarlo nel migliore dei modi? Il partito del piccione, come nasce un folle esperimento sociale, e come la mancanza di una chiara idea di business possa rivelarsi un toro meccanico incontrollabile. Potenzialità e pericoli di un web moltiplicatore esponenziale di tutto. Quanto può essere sottile la linea tra il vivere bene e il dormire male? Tutto questo e molto di più nel viaggio che saprà regalarvi 2K10, l'anno zero dei social di Andrea Panciroli. E noi ci vediamo nei commenti. Se ancora non l'avessi fatto, iscriviti al canale, cerca Progetto Migliori Libri su Google e aiuta altri lettori come te. Qui troverai il nostro ultimo video pubblicato e qui un video selezionato in base alle tue preferenze. Buona lettura!